Ciao amici, sapete se fuori sono qui in cusina, troviamo un parco di calamaretti non c'è per farci un piatto, ma un primo, magari fresco con una verdurina, eh, senti così, cominciamo subito facciamo il calamaretti e tagliamo una striscia urina, vediamo una bella netta da prima di tirare un tre succhetti, tagliamo una striscia e toccendo un parco di carne, e tiriamo un tre tomate tagliamo in quattro, tiriamo via il semitto, e lo dividiamo in modo l'acqua la bui, dentro il calamaretti, un pari di minuti di bollare, per far sfregire e mettere un departe l'acqua la bui, dentro la pasta, 10 minuti, dentro il succhetto tre minuti in pronto, prepariamo il condimento, tomates calamaretti, succhetti, condividiamo con sal, peper e olio, e mettiamo su scossa, che mettiamo la pasta corta e sfregita, l'herburino, e veniamo avanti a mettere un po' di oliva della riviera, che sta bene le ore di impiatà, guardate che belle colori ragazzi, per gli amici che colta alti, mi perdono la fame e anche che ci saranno domani grazie 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 grazie